Altri 100 posti per tendere la mano a chi scappa dalla guerra. Caritas Ambrosiana contribuisce allo sforzo di accoglienza che il territorio lecchese sta producendo a favore dei profughi giunti dall'Ucraina e moltiplicherà il suo contributo a partire dalle prossime settimane. Lo sforzo non è concentrato solo nella città di Milano, spiega Luciano Gualzetti, direttore diocesano dell'organismo pastorale. Tutti i territori della diocesi ambrosiana sono coinvolti perché in tutti si è manifestata una straordinaria generosità. È un'attentica prova di solidarietà popolare diffusa che noi abbiamo il compito di organizzare e capitalizzare anche in chiave pedagogica perché cresca in termini generali la cultura dell'accoglienza. Il numero di persone in fuga dall'Ucraina accolte dalla Caritas Ambrosiana, dal sistema di cooperative da essa promosse, nelle chiese, la coppa, l'arcobaleno e dalla rete delle parrocchie, a giugno raggiungerà quota mille grazie ai 270 posti che sono stati candidati a un bando emesso in aprile dalla protezione civile nazionale. Tra questi ben 100 posti verranno attivati come detto nella zona pastorale di Lecco, in alloggi resi disponibili da parrocchie, istituti religiosi e privati. 67 saranno situati in comuni della provincia di Lecco, 33 in quella di Como. La zona pastorale terza che fa capo a Lecco in diocesi sarà quella più interessata dagli arrivi di questo bando, che offrirà un'accoglienza più stabile e caratterizzata da percorsi di cura e inclusione, sanitaria, educativa, scolastica e lavorativa, rivolta a profughi sinora ospitati in alberghi o presso famiglie privati che non possono reggere più a lungo l'impegno dell'ospitalità. Caritas, con le sue articolazioni territoriali, sta però supportando molte accoglienze informali in atto da settimane, sin dai primi arrivi dei profughi, sia con aiuti materiali per far fronte a bisogni primari, sia in azione di orientamento tramite i centri di ascolto, ai servizi e alle opportunità presenti nel territorio, agli adempimenti burocratici, alla salute, all'istruzione e all'educazione. Le persone seguite per ora sono 32, 6 in parrocchia, 3 a Valmadrera e 3 alla Orca, 26 presso privati, 11 a Lecco e 15 a Valmadrera. Per sostenere l'intenso e diffuso lavoro di accoglienza, Caritas Ambrosiana ha attivato una raccolta fondi che ha consentito sinora di ottenere donazioni per circa 4,6 milioni di euro.